salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi ragazzi lunedì giornata spettacolare e visto che la mia ragazza non lavora ci andiamo a fare un giro dalle parti del monte lì vada insomma andiamo verso Subiaco quelle zone là per intenderci franzetto fuori e poi si rientra a casa penso quindi adesso direzione casa della mia ragazza andiamo a prendere e poi si parte partire di due che non si è privata e non so se ne vede più due ore e non mi piace ma non so se ne vede più ma non so se ne vede più Lì ho preso ero, c'è un altro giro la Cinelli e non so se ne vede più e non so se ne vede più la Cinelli Ah, bella volazione fatta Eh, amore Ah, bella volazione fatta Che stradina, che stradina Tutte curvette E che panorama pure, eh Ah, siamo a Tivoli Ah, bella volazione fatta Sì, ma guarda che strada, oh Ah, bella volazione fatta Sì, ma guarda che strada Sì, ma guarda che strada Ci siamo fatti questa bella mangiata E adesso Si riparte Destinazione Chiese Comunque abbiamo mangiato bene Abbiamo mangiato, eh Ragazzi, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciare un like Attivate la campanellina E se volete potete commentare qui sotto E trovate anche il link per il mio profilo Instagram Intanto ha fatto un ruttino mia Tanto ha fatto un ruttino mia Sì, ma guarda che strada Ancora c'è il sole Ancora c'è il sole Il sole Ragazzi, anche per questo video è tutto Io spero che vi sia piaciuto Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciare un commento Un like Trovate il link di Instagram qui in descrizione Insomma, ragazzi Mi raccomando, tanto è gratis Iscrivetevi, porca puttina Io spero che il video vi sia piaciuto E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.